è ripartita la campagna vaccinale con le quarte dosi a over 60 sanità pesarese baiocchi garantisce sul potenziamento raccolti 60 mila euro per la famiglia zandri dopo la disgrazia a fano banca di pesaro e wl si rinnova la partnership mira al teatro d'estate si parte con i things of convenience siete su rossini tv canale 80 questo è il nostro telegiornale rossini news visibile in tutta la regione marche parliamo in modo particolare della provincia di pesaro urbino in questa edizione e torniamo a parlare della campagna di vaccinazione anti covid una campagna che infatti torna a prendere vigore visto che da oggi è dato il via libera alle quarte dosi per gli over 60 marchigiani partiamo da questo servizio dopo mesi di calma piatta la campagna vaccinale anti covid torna a prendere vigore da questa mattina nelle marche infatti partita la fase di prenotazione delle quarte dosi anche per gli over 60 una procedura che era già attiva per i soggetti fragili e che da ora si allarga senza precondizioni al di là di quella che siano trascorsi 120 giorni dalla terza dose o dall'ultima infezione da contagio si tratta di una platea di 386 mila persone potenzialmente vaccinabili nelle marche quarte dosi over 60 che partono dopo i tiepidi riscontri fra gli over 80 una categoria in cui si è vaccinato solo il 10 per cento dei marchigiani è una campagna vaccinale che torna a rimettersi in moto in linea ad una curva di contagi in regione risalita nell'ultimo mese a 30 mila nuovi casi già registrati ovvero in meno di metà mese più di quanti se ne sono registrati nell'intero giugno o maggio risalgono i contagi risale gradatamente la domanda di vaccinazione che però ora va riorganizzata soprattutto su pesero dove l'ex resto dell'aerosini center ha cessato la sua funzione di hub con i locali rientrati in possesso del proprietario l'asus sta cercando una nuova sistemazione per i vaccini dopo che si prevede un picco di contagi per la fine di luglio che rimetterà in moto una campagna di vaccinazione alle quarte dosi del tutto simile a quella che ha caratterizzato le più recenti terze dosi da oggi dunque gli over 60 possono ricevere la quarta dose ma non negli hub di pesero muraglia resta aperta solo per i fragili ma nella prossima settimana si potrebbe creare la possibilità di nuovi hub sempre in zona torraccia o a villa fastigi resta attiva la vaccinazione a urbino o al codma di fano oltre alla facoltà di vaccinarsi in farmacia o nei presidi dei medici di medicina generale sono settimane delicate per la sanità marchigiana che si trova al centro di un dibattito politico che si sta alimentando alla luce della cancellazione dell'asur e dell'azienda ospedaliera Marche Nord dal consiglio comunale arrivano allarmismi e catastrofismi che a dire del consigliere regionale Nicola Baiocchi sono privi di fondamento. Settimane particolari per la sanità regionale siamo di fronte a una rivoluzione dopo 20 anni con un sistema che prevedeva la sur regionale e altre situazioni consolidate si va verso un nuovo sistema in fase di elaborazione tante commissioni sanità che vi vedono coinvolti in questi giorni e sulle fronte pesarese la azienda ospedaliera Marche Nord che andrà a sparire sta alimentando alcune preoccupazioni e allarmismi le chiedo Baiocchi se del tutto giustificati o meno. Chiaramente da parte mia non sono giustificati e il dibattito politico è chiaramente legittimo e concesso purtroppo molte volte non si riesce a capire neanche la portata dei problemi e quello che veramente la regione in questo caso vuole fare è una riforma epocale una riforma che era stata annunciata nella campagna elettorale era all'interno del programma elettorale e sostenere come è venuto in consiglio comunale che Marche Nord anche perché la cosa molto strana è che a differenza poco più di un mese prima in consiglio comunale si attaccava Marche Nord le modalità di esecuzione delle delle terapie dei tempi delle liste d'attesa adesso guarda caso si difende Marche Nord mi sembra veramente un pretesto per come sempre spesso accade purtroppo in questo momento attaccare attaccare la regione. E dunque si difende un progetto Marche Nord che dal vostro punto di vista è un progetto superato? È un progetto che è assolutamente superato ma non lo dicono diciamo noi lo dicono i numeri la mobilità passiva è altissima è la più alta in tutte le aree vaste delle Marche Marche Nord era stata concepita esclusivamente per per un progetto legato alle liste d'attesa legato alla bloccare la mobilità passiva purtroppo non è riuscito a raggiungere il risultato per il quale è stato creato quindi noi vogliamo sicuramente creare un sistema diverso nuovo che sia veramente capace di ottimizzare il sistema e di rendere la sanità sicuramente più accessibile a tutti. Quello che si sta progettando su muraglia e anche la salvaguardia dell'ospedale di Fano sono elementi che avvalorano come questa sanità non sarà depotenziata sulla provincia? Assolutamente l'assessore Santabartini ma anche il presidente Acquaroli ha chiarito in maniera in maniera molto molto netta che le specialità le eccellenze di Marche Nord non verranno sicuramente depotenziate ma sicuramente verranno potenziate verrà solamente per il territorio per la costa e per l'entroterra un effetto sicuramente positivo l'integrazione con il territorio importantissima anche in previsione di tutti i fondi che verranno destinati sono destinati con il PNRR quindi la creazione di case di comunità ospedali di comunità e tutto quello che avviene a livello a livello comunitario distanziamento di tantissimi fondi per i nostri territori. Facendo un passo indietro a quella che è stata l'ex amministrazione regionale oggi l'ex governatore Luca Ceriscioli sulla stampa ha sottolineato la grave carenza di posti letto circa 300 che mancherebbero all'appella all'area vasta 1 qual è il vostro punto di vista su questa accusa? Per una volta sono d'accordo con l'ex governatore Luca Ceriscioli effettivamente questo questo è vero è un dato che noto a tutti peccato che questa critica proviene proprio da colui che è stato l'ultimo assessore alla sanità governatore della regione Marche assessore alla sanità proprio della provincia di Peso Urbino nonché i precedenti assessori alle sanità degli ultimi dieci anni è stato Merino Mezzolani che è sempre un esponente del PD locale della provincia di Peso Urbino quindi questa va appare una critica da un lato giusta ma assolutamente pretestuosa considerando il soggetto da cui proviene la critica quindi sicuramente dovremo lavorare su questo la provincia di Peso Urbino ha bisogno sicuramente di incrementare i posti letto in relazione ai posti letto delle altre delle altre aree vaste ma sicuramente lo analizzeremo all'interno del piano sociosanitario che al termine di questa riforma della legge 13 verrà subito messo in campo inizierà l'iter all'interno della commissione competente La lieve piovuta di ieri non ha saziato l'emergenza idrica sul territorio provinciale soprattutto quella del fiume Metauro tant'è che da domani alle 11 si procederà all'apertura del pozzo di Sant'Anna del Furlo da cui saranno rilasciati 150 litri d'acqua al secondo da immettere nel Metauro lo ha reso noto poche ore fa l'assessore regionale Stefano Aguzzi al termine della riunione con il coordinamento di protezione civile la Ato, la Prefettura, la provincia e i comuni interessati si tratta di una decisione conseguente alla crescente difficoltà di prelevare acqua potabile da immettere negli acquedotti di Fano e Pesaro Nel telegiornale di ieri sera vi abbiamo mostrato le immagini toccanti del funerale che si è tenuto a Calcinelli il funerale di Davide e Fabio Zandri papà e figlio morti annegati come ben sapete sabato scorso nelle acque di Fano attraverso un post su Facebook Giacomo Zandri cugino del defunto Davide ha pubblicamente ringraziato i tanti attestati di sostegno alla famiglia che sono arrivati in questi giorni di lutto un sostegno che si è anche tramutato in una raccolta fondi attraverso il sito GoFoundMe che ha raggiunto la cifra considerevole di 60.000 euro da destinare all'aiuto verso Stefania Carpignoli che in questa tragedia purtroppo ha perso il marito e il figlio terzo genito Ed ora cambiamo argomento cosa ci sarà sui binari della costa quando verrà arretrata la ferrovia che ne sarà del San Salvatore una volta realizzato il nuovo ospedale a Muraglia alcune di queste risposte potrebbero arrivare dai nuovi concorsi di idee lanciati dall'amministrazione Ricci per progettare la Pesaro che verrà Pesaro cambierà il proprio volto con questo concetto di fondo il sindaco Matteo Ricci ha annunciato in queste ore che a settembre saranno avviati due concorsi di idee e un incarico di progettazione per sviluppare dal punto di vista urbanistico tre progetti che da tempo sono all'ordine del giorno Green Line San Salvatore Viale Trieste ma andiamo con ordine nell'intervento di potenziamento della tratta ferroviaria Bologna-Lecce confermata dal ministro Giovannini un ruolo centrale lo avrà il nodo pesarese per il quale il governo ha destinato 1,2 miliardi di euro un investimento importante per tutto il territorio come lo stesso Ricci ha ribadito più volte e che prevede al posto delle attuali rotaie la realizzazione della cosiddetta Green Line un tratto attraversabile a piedi e in bicicletta trasformando uno spazio di divisione in uno spazio di unione da qui parte l'idea del sindaco ovvero quella di far partire per un anno da settembre 2022 un concorso di idee per capire come sviluppare il progetto l'intento è quello di coinvolgere soprattutto i giovani che con idee fresche e avanguardistiche potrebbero intraprendere strade alternative stesse modalità e tempistiche per quanto riguarda il San Salvatore con il trasferimento dei servizi sanitari nella struttura di Muraglia entro settembre 2024 sarà importante riorganizzare l'attuale struttura ospedaliera la parte ristrutturata potrebbe essere destinata agli ambulatori mentre per la parte vecchia è necessario tenere in considerazione due aspetti importanti l'invecchiamento della popolazione e le patologie psichiatriche in entrambi i casi occorre che si ascolti il parere dei cittadini attraverso il concorso attivato dall'amministrazione e infine il Viale Trieste che in linea con la conferma dell'area pedonale per il lato nord per la terza estate consecutiva il Comune starebbe pensando di renderla definitiva e per fare ciò sarà importante sin da subito dialogare con albergatori e ristoratori e negozianti un progetto che si potrebbe estendere anche al lato sud del Viale con la realizzazione entro la prossima estate di Piazza D'Annunzio diventando così il punto centrale di quell'area Seconda chiamata in tribunale in due settimane per Umberto Carriera il ristoratore nonché leader nel movimento Io Apro è tornato davanti al giudice ieri per l'inizio del processo che lo vede accusato di essersi inventato minacce contro se stesso e contro suo figlio per il codice penale si tratta di simulazione di reato il periodo risale a gennaio 2021 quando sui social pubblica un messaggio che gli era arrivato da un anonimo il quale recitava se domani apri ti faccio male sappiamo dove va l'asilo tuo figlio allora Carriera decise di denunciare contro i gnoti ma per la procura risultò tutto inventato e che il messaggio contenente la minaccia fu inviato da un account della macelleria uno dei ristoranti del leader di Io Apro Un pranzo al club nautico di Pesaro è stato l'occasione per rinnovare gli impegni di un matrimonio sempre più robusto stiamo parlando di quello fra la banca di Pesaro e la VL l'istituto bancario infatti rafforza il suo impegno per lo sport e per il territorio Una conferma di quello che facciamo solitamente e che quindi anche quest'anno l'abbiamo diciamo confermata per stare vicino alla società società che nelle ultime due stagioni ha dato dei risultati soddisfacenti e ha riacceso con l'entusiasmo nella città di Pesaro che si era soltanto leggermente addormentato Oggi la banca conferma questa sponsorizzazione importante e come importanti sono anche tutte le altre sponsorizzazioni che facciamo nell'ambito delle varie discipline agonistiche pesaresi dalle più piccole alle più grandi e quindi siamo una banca locale ci teniamo a dire che siamo la banca della città di Pesaro locale non abbiamo mire di espansioni ma miriamo a crescere nel nostro territorio perché le quote di mercato che stiamo acquisendo negli ultimi tempi sono importanti quote di mercato che vengono dal saper operare bene operare con diciamo correttezza stando vicino alle famiglie, alle imprese E' la VL che deve ringraziare Massimo Tonucci e la sua banca perché chiaramente è una realtà locale che ci sta vicino con grande entusiasmo, grande passione e un grande supporto ci fa chiaramente non solo comodo ma tanto piacere e quindi è la VL che ringrazia BCC nella persona di Massimo e di Paolo Benedetti quale direttore eccezionale dell'istituto L'occasione per ribadire l'importanza del ruolo della banca locale all'interno di un territorio ricco, dinamico e anche in buon movimento soprattutto sempre all'avanguardia nelle nuove ricerche il mercato è veramente da ragione Le aziende purtroppo stanno vivendo anche loro un momento particolarmente difficile dovuto più che altro ad effetti a situazioni geopolitiche prima purtroppo anche sanitarie si è messo di mezzo anche una situazione particolarmente difficoltosa a livello economico ma io sono molto fiducioso che le aziende nostre che negli ultimi anni sono strutturate non è più l'aziendina piccola ma è un'azienda veramente strutturata piccola di dimensione ma grande nei progetti e nei processi dove c'è un cambio generazionale importante la banca di Piesa necessariamente deve assistere e continuare e contribuire al loro sviluppo Come nella scorsa estate anche in questa stagione sarà rafforzato il controllo del traffico e del rispetto dei limiti di velocità sulla panoramica San Bartolo da venerdì 15 luglio e fino a inizio settembre saranno infatti istituite postazioni di controllo della velocità attraverso misuratori elettronici con la presenza di pattuglie della polizia provinciale secondo il presidente della provincia Giuseppe Paolini si tratta di una risposta alle criticità espresse dagli abitanti della zona che lamentano l'eccessiva velocità elevata di auto e moto Ed ora parliamo di Urbino dove è stata completata un'importante operazione di ampliamento degli spazi museali della Galleria Nazionale delle Marche domani 14 luglio sarà infatti inaugurata l'ala occidentale del secondo piano del Palazzo Ducale con 8 sale dedicate alla pittura del Cinquecento al Settecento, al Ritratto, al Pontificato Albani e alla Collezione Volponi con questa apertura si concluderà la musealizzazione del piano superiore del palazzo permettendo al museo di ospitare 100 opere in più rispetto a prima Da domani giovedì 14 luglio fino a domenica 17 torna la Fiesta Global di Montefabbri il Festival delle Arti Globali arrivato alla sua diciottesima edizione si svolgerà nel centro storico colorato da quattro giorni di animazioni e spettacoli di strada con artisti, cantanti, DJ, giocoglieri e burattinai il tutto accompagnato da mercatini e street food e da domani a domenica 17 luglio Campo di Marte di Baia Flaminia ospiterà la fiera della birra artigianale saranno presenti a Pesaro 12 birrifici con altrettanti stand gastronomici accompagnati dalle performance musicali di Divina Show nella serata di giovedì Ele Noir DJ e Walter Pizzulli venerdì Moon Skin sabato e Bambini dell'asilo nella conclusione di domenica Continuiamo a parlare di spettacoli di divertimento e di show perché domani giovedì 14 luglio alle ore 21.15 alla Rocca Malatestiana di Fano debutta Cesare Augusto viaggio comico ai tempi dell'antica Roma il San Costanzo Show arricchisce così il programma della Fano dei Cesari con uno spettacolo che porterà a salti nel tempo dall'epoca moderna all'impero romano per raccontare e valorizzare gli antichi monumenti presenti a Fano e nelle Marche personaggi famosi dell'antica Roma verranno trapiantati nelle Marche pronti a confrontarsi con i comici del San Costanzo Show al termine dello spettacolo ci sarà anche la proiezione del cortometraggio ideato e diretto dal San Costanzo Show La scoperta del secolo e sono davvero tanti gli eventi nel nostro territorio in questo caso torniamo a Pesaro perché dalla fine di luglio si tornerà a vivere l'anfiteatro dell'arena del Parco Miralfiore l'arena che propone anche quest'anno Miral Teatro d'Estate questo festival che partirà alla grande con il concerto dei Kings of Convenience La caratteristica principale di Miral Teatro d'Estate è la sua forte eterogeneità che vuole essere una vastità di proposte non a caso tocchiamo davvero tutti i target dal rock d'autore internazionale con due concerti sicuramente memorabili come il ritorno dei Kings of Convenience l'arrivo degli Arab Strap uno dei più importanti gruppi della scena londinese all'interno di una torne molto esclusiva in Italia così come insomma nulla da dire su Drusilla Foer perché già devo dire che è completamente esaurito mancano pochi biglietti quindi evito a farlo però abbiamo scelto proprio davvero di farne un luogo che fosse una festa per tutti per cui non a caso abbiamo chiamato la Compagnia dell'Arancia con il loro musical per famiglie devo dire delizioso così come un grandissimo attore forse il più grande della sua generazione che Massimo Popolizio per celebrare con noi le bellezze del patrimonio archeologico di Pesaro un contenitore davvero dai mille colori in questo senso l'invito è la scoperta e anche poterli fruire anche scoprendo cose nuove perché poi anche i prezzi sono sempre piuttosto abbordabili insomma un invito a vivere il parco con il plus di un contenuto così emozionante, divertente rilanciamo con una nuova stagione con una stagione un po' più compressa perché diciamo luglio è il mese dei festival soprattutto in Piazza del Popolo ma da fine luglio si trasferisce al fresco anche del parco Miralfiore dove normalmente si apprezzano almeno dai 5 agli 8 gradi in meno rispetto al centro della città quindi un ulteriore incentivo a seguire questa programmazione che tiene assieme una volta di più in un collage di partecipazioni la programmazione di Pesaro e di Amat con anche la collaborazione dei concerti, dell'orchestra filarmonica Rossini e anche di Zero Crossing e anche del teatro Accademia che già dal parco nel parco nasceva lì diversi anni fa quindi da Drusilla Foer al lavoro rispetto al teatro di Rettale o Franca Mercantini insomma si potrà usufruire di una bellissima stagione anche quest'anno scommettendo appunto su una vera e propria arena recuperata che crediamo potrà essere anche proprio per essere calata in mezzo al verde la natura anche uno dei punti di forza della corsa verso Pesaro 2024 con la natura della cultura al centro Allora davvero sono tantissimi gli appuntamenti che potete vivere nella nostra bellissima regione Marche nella nostra bellissima provincia di Pesaro Urbino in questi giorni e così come tutta l'estate noi di Rossini TV vi daremo costantemente senza mai fermarci aggiornamenti su quello che accade nel nostro territorio a proposito questa sera alle 21.20 se vi collegate sul canale 80 su Rossini TV avrete la possibilità di vedere quello che è stato Novilara Arte Gusto un evento che appunto avviene da 10 anni in questo bellissimo borgo di Novilara mentre domani torna la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini in diretta alle 7.20 se non ci riuscite a vedere in diretta vi ricordiamo le repliche delle 8.20 12.30 14.18 e visto che in estate si sta sempre più fuori casa è il momento giusto per voi per scaricare gratuitamente la nostra applicazione attraverso l'applicazione potrete vedere la tv ogni giorno a tutte le ore in streaming quindi live seguire i nostri programmi il nostro telegiornale la nostra rassegna eccetera potete leggere e rivedere le notizie del nostro telegiornale e anche contattarci per le vostre segnalazioni adesso vi lascio con il meteo per vedere come sarà il tempo nei prossimi giorni buona serata grazie a tutti